L'inverno è prepotentemente tornato a bussare alla porta degli Umbri con allagamenti, tombini saltati e alberi abbattuti. È lo scenario apocalittico che ha sorpreso l'Umbria tra ieri pomeriggio e stamattina. Il problema è che sono solo alcuni dei danni registrati finora. Inoltre, le paure principali è che possono verificarsi eventi di natura alluvionale esattamente come di inizio anno. In quest'ottica, la possibilità che ciò accada è tutt'altro che remota. Il violento nubifragio di ieri ha letteralmente martoriato la strada statale 75 centrale Umbra nel tratto compreso tra Bastia e Perugia, una zona che, come il comprensorio del Trasimera, è stata tra le più colpite. Innumerevoli rallentamenti al traffico, fortunatamente però nessun incidente. In compenso, sono state tantissime le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, tutte richieste di soccorso per far fronte a zone allagate o rami d'albero divelti. Fortunatamente, per ora, non sono stati registrati allagamenti di grande entità, nella speranza che in questo inverno la situazione sia sufficientemente stabile, al contrario di quello passato, costellato di alluvioni e smottamenti.